Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenuti e bentornati nel mio canale. Allora, appena sono andato il corriere e mi è appena arrivato il pacco della My Beauty Box! Il mio primo My Pacco della My Beauty Box! Allora, io devo andare a lavorare tra 20 minuti, penso di fare in tempo l'una sta ferma. Vi lascio sotto nell'info box, ma penso che conoscete tutti la My Beauty Box. Vi lascio sotto nell'info box il mio codice personale, con il quale potete avere il 10% di sconto su un acquisto della My Beauty Box e io avrò 100 My Beauty Points. Adesso, comunque questo è il video unboxing della My Beauty Box nel mese di dicembre. Allora, una scatolina. Oh, che carina, un po' rovinata. Vabbè, My Beauty Box. Pensavo fosse la pochette. È rovinata però, eh. Ho speso 14 euro. E vabbè, è rovinata. Io pensavo di tenerla alla scatolina. Vabbè. Apriamo. Senza magari che tremo. Uh, c'è un'altra scatolina! Un'altra scatolina della My Beauty Box. E adesso apriamo. Ma mi sono emozionatissima. Uh! Allora. C'è la... Loghino. Sento un profumo strano. Apriamo. E vediamo. Uh! La peppa! Allora. Primo prodotto. Anzi. Vediamo. Allora. My Beauty Box Sparkling 2018. Questa è la brochurina con tutti i prodotti. Care My Beauty Girls, ufficialmente tempo di festa di sborduccichini. Qui in My Beauty Box stiamo pensando a... Oh, la tata! Ecco il prodotto della box Sparkling 2018. Il valore di questa box è di 62 euro. Ma io ho pagato 14 euro. Allora. Vediamo. Dunque. Masca Rullora. C'è... Io ho trovato della Cura Sept dei Care Whitening con l'autorio alle essenziali, protezione completa, denti più bianchi, no alcohol, LSM, senza SLS, da 250 ml con 6 mesi scadenza dall'apertura. Allora. Allora. Cura Sept dei Care Whitening, un innovativo con l'autorio con olio. Questo è in full size. Poi ho trovato della Bioniche. Questo è l'illuminante universale per i sensibili e intolleranti da 3,2 ml con 18 mesi. Bioniche, 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 Defense Color Luminous, esalta lo sguardo e i punti strategici di viso e decolleté con tocchi di luce iridescente per un look luminoso e sofisticato. Applicare con tocchi leggeri ed eventualmente sfumare con i polpastrelli. Nel pratico packaging chubby non si tempera. Basta ruotare il fondo per la fuoriuscita della mina. Texture morbida e facile da stendere. Oftalmogicamente testato in full size. Quindi è un illuminante interessante. Poi, sì, tremo perché sono un po' emozionata. Poi della Skin Eko. Questo anti-age, ah no, questo crema viso al tartufo rigenerante da 5 ml. Quindi questo è in travel size. Uh, che carino! Questo non lo apro perché è tutto... Tutto via parte che... Vabbè, aspettate che... Apriamo questo matitone. Questo è il matitone della BioNike. Bello! Oh, 14 euro, spesi bene. Poi, poi... Un blush della Nabla! Wow! Un fart... Nella tonalità Daisy! Wow! Un Blossom Blush Powder Blush Della Nabla! Oh my God! Oh mio Dio! Nabla Blossom Blush. A lunga tenuta dalla texture soffice e levigante. Dona look sano e naturale. In full size, 3,5 grammi. Mamma mia! Madonna! I prodotti della Nabla costano un po' più. Poi, poi... Love & Toothpaste. Un dentifricio della Mercy Andy! Oh mio Dio! Da 50 ml! Dov'è? Mercy Andy. Dentifricio Love & Toothpaste. Sorridere alla vita è bello. Per farlo con l'alto fresco è ancora meglio. 98 ml? In full size. Wow! Madonna! Ecco cos'è che profumava! Poi, poi... Mamma Dio! Santo benedetto! Un rossetto liquido della We Makeup... No, We Makeup Ever Liquid Lipstick. In alternativa, uno di due sti di prodotti. Ah, ok. C'era. Potevate trovare... Oh, Liquid Lipstick. So, Lipstick è in full size 7,5 ml. Numero 09. Sì, scusate, tremo. 14 euro spesi tutti. È un lip gloss. Aspettate che apro. Bella, Peppa! È dorato! Spero che riusciate a vedere perché c'è... Mmm, un po' profumo. La luce che fa un po' schifio. Wow! Poi, i cosini questi qua, tanto carucci che sono neri. Ed infine, cosa ho trovato? Oh, della Davines. Aspettate. Davines, maschera capelli, The Quick Fur Fix Circle. In full size da 50 ml. Una maschera rapida, multitasking per capelli. Cosa fa? Allora, vi capita di essere davvero di corso? Soddisfatte? Presa dalla vostra giornata? Pfff! Uh, effetto districante! Mmm, solo tre minuti di posa. Maschera capelli restitutiva ad azione immediata, idrata e districa, capelli rendendoli morbidi e lavorabili. Applicare a capelli tamponati dopo lo shampoo, lasciare in posa 3 minuti, poi pettinare e disciacquare. Asciugare i capelli, sciacquare abbondantemente in caso di contatto. Oh! Mmm! Madun! E niente! La box è terminata! Bella, 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 bella! Questa box mi piace, la mia prima My Beauty box mi piace un casino, ci sono entro uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette prodotti. Mamma, sono super mega contenta, il valore è di 62 euro, io l'ho speso solo 14 euro. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto spollicciate, se vi va, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao! 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 Grazie.